Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. Chiaroveggenza, Arcangelo Raziel. Sto aiutando la tua visione spirituale a risvegliarsi appieno, così potrai vedere chiaramente l'amore del cielo. La tua chiaroveggenza può assumere forme diverse, immagini sfuggevoli che vedi con l'occhio della mente. I sogni, visioni ricorrenti nel mondo fisico, aure di energia o apparizioni. Tutte le sfaccettature della chiaroveggenza sono splendide e variegate. Gioiscine e fidati di loro. Mantieni l'intenzione di vedere solo l'amore e vedrai solo l'amore. Collabora con l'Arcangelo Raziel. L'aura di Raziel è composta da tutti i colori dell'arcobaleno, come un bellissimo prisma luminoso. Lavorando con il quarzo ialino o cristallo di rocca, rafforzi la tua chiaroveggenza e ti senti più vicino all'Arcangelo Raziel. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.